Ciao a tutti, sono Barbixenex, benvenuti in un nuovo video, benvenuti a una serie che conoscono in pochi ma secondo me sto parlando di Dairy Girls che trovate su Netflix. In molti me l'avate suggerita su Instagram, molti di voi l'hanno vista proprio mentre io condividevo alcune cose su Instagram per suggerirmi cosa vedere su Netflix, seguitemi proprio qui. La serie è velocissima, solamente 6 puntate, ognuna è di 20 minuti ed è super super divertente. Ha un umorismo un po' british quindi deve piacere voi quali tipo di umorismo, secondo me l'umorismo non è universale quindi dipendo un po' da cosa preferite. Sono molto curiosa, qualcuno di voi l'ha visto? Che cosa ne pensate? Lasciatemi un commento qui sotto prima di iniziare, spero vi possa essere utile questo video e in caso fosse così fatemelo sapere con un commento e sotto questa felipa perché non sto tanto bene ho esattamente questa maglietta che trovate su Pumping e con il mio codice sconto SGHICIO potete prendere questo o qualsiasi altro prodotto sul sito scontato al 15% perché SGHICIO tornerà di moda. Ma iniziamo a parlare della serie che io ho trovato divertentissima, siamo negli anni 90. Derry Girls è una serie comica che parla di un gruppo di ragazze che vivono proprio durante questi anni 80 nell'Irlanda del Nord. Sono delle ragazze adolescenti, gli anni 90 sono già degli anni terrificanti, assurdi e se li avete vissuti sapete a cosa mi riferisco però qui come se non bastasse c'è uno sfondo anche molto complesso, quello politico. Il luogo in cui vivono è già complesso di per sé, è un luogo di confine, ci sono delle tensioni, ci sono degli attentati terroristici e come se non bastasse c'è una fortissima influenza della religione sulla vita di queste persone all'interno di questo territorio così come della politica e dei gruppi terroristici. È molto carino vedere questa serie che è spensierata con queste ragazze che hanno dei problemi tipici dell'adolescenza e messi in scena in maniera molto divertente, molto sopra le righe, ma a ricordarsi ogni tanto dello sfondo, ovvero dei muri, dei militari. La serie parla di queste cose, ho trovato molto divertente come includa questi argomenti all'interno del suo mondo, che è un mondo comico, un mondo che punta a far ridere, ma all'ustante tutto non sminuisca mai queste tematiche che sono abbastanza grandi. La serie come vi ho detto ha un umorismo molto sopra le righe, non è per niente vicina alla credibilità, non è realistica, è davvero sopra le righe e se vi piace l'umorismo british probabilmente potreste amarla. Ci sono dei momenti di nonsense bellissimi e a me ha fatto tanto ridere perché questo tipo di umorismo mi fa molto ridere. Ci sono tutti questi personaggi che fanno delle cose assurde, c'è la suora per esempio che è allucinante, c'è Olona con lo step che io mi stavo sentendo male e c'è il personaggio di Michelle che a me ha fatto troppo ridere. La serie scherza molto su questi limiti, sull'ipocrisia, ma anche sulla condizione delle ragazze. Queste sono delle ragazze che non provengono da famiglie particolarmente abbienti e hanno un po' dei problemi che probabilmente potrebbero parlare anche della vostra adolescenza. La serie è molto divertente e tocca molti argomenti interessanti come le emancipazioni, i diritti LGBT, è davvero ma davvero divertente e dissacrante soprattutto per quanto riguarda il contesto. Le ragazze sono all'interno di una scuola religiosa e come vi ho detto c'è la suora che è divertentissima. A me Dary Girls è piaciuta tantissimo, spero piaccia anche a voi. Fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha vista. Sono curiosa del vostro parere, potrebbe anche non piacervi, ci sta. Grazie mille ancora per aver visto questo video, se avete delle serie poco note da suggerirmi sempre su Netflix scrivetemelo qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!